Bentornati, il 20 gennaio del 2014 Claudio Abbado ci lasciava ed è per questo che a dieci anni di distanza voglio fare questo mio piccolo omaggio a quello che è stato un grandissimo direttore, un grandissimo maestro non solo in Italia ma in tutto il mondo, un direttore che veramente ci ha invidato tutto il mondo e non per niente è andato, come vedremo nel corso del racconto di oggi, a dirigere l'orchestra più importante del mondo. Un vero faro di ispirazione e di ammirazione per generazioni e generazioni di spettatori con una carriera che è durata più di 50 anni ma soprattutto per generazioni di musicisti tra cui immodestamente il sottoscritto. Allora perché mi è sempre piaciuto Abbado ancora più come uomo che come musicista? Mi piaceva tantissimo il modo di fare, il modo di fare, il modo di trattare mi piaceva il modo che aveva di trattare l'orchestra, di concertare le prove perché è sempre bello quando vedi un direttore o anche genericamente un artista soprattutto che è arrivato in cima dove la sua carriera lo potrebbe portare restare comunque una persona sempre molto tranquilla e disponibile. Abbado veniva sì da una situazione estremamente favorevole perché veniva innanzitutto da una famiglia di musicisti situazione assolutamente favorevole per lo sviluppo musicale di Claudio Abbado che inizia con gli studi di pianoforte e era anche un ottimo pianista anche se non farà mai la carriera di pianista perché poi a poco più di 20 anni deciderà di dedicarsi esclusivamente alla direzione orchestra con qualche buon risultato. Però dicevo al netto di essere cresciuto nella situazione familiare ideale al netto di avere talento perché è ovvio insomma che se non hai talento non raggiungi certi risultati dietro Abbado c'era tanto 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 studio c'è una situazione diversa dal suo compagno di studi Zubin Meta che invece era talento puro, nato per fare quella roba lì ed era noto insomma che in gioventù Meta passasse molto più tempo a correre dietro alle ragazze che non a sbattere la testa sulle partiture perché tutto gli veniva incredibilmente facile e a un livello già altissimo, già da studente. Abbado no, Abbado ha sempre informato la sua vita a uno studio molto molto approfondito e molto molto sacrificato. Ha incominciato a collaborare con la Scala negli anni 60 e nel corso degli anni in Scala ha portato una serie di innovazioni notevoli innanzitutto ha cambiato il repertorio è stato uno dei primi in Italia a portare autori come Mahler e Bruckner che ai tempi erano eseguiti ma non eseguitissimi in Italia si capisce stante la forte tradizione operistica dei nostri teatri, delle nostre orchestre erano autori meno eseguiti. Non per niente nel 1982 Abbado formerà la filarmonica della Scala con l'intento di farla diventare non solo una compagine specificamente formata per la produzione sinfonica invece che quella lirica ma con l'intento dichiarato di farla diventare come poi diventerà negli anni una delle migliori orchestre del mondo. Inoltre sempre quando era a direzione del teatro della Scala aveva fatto una serie di iniziative importanti come quella dei concerti per studenti e lavoratori tramite una politica di biglietti a prezzi assolutamente popolari. Poi la sua collaborazione con la Scala finisce, nel 1986 va alla Penna vi resterà quattro anni per poi tra l'89 e il 90 passare alla cima, alla vetta di quella che è la carriera per un direttore orchestra cioè la guida della filarmonica di Berlino. E pensate che fu il primo direttore della filarmonica di Berlino non tedesco, sì c'era stato anche celibidache però celibidache anche che rumeno faceva comunque parte del mondo germanico. E voi capite che comunque arrivare nell'orchestra più importante del mondo dopo un certo Herbert von Karajan che era stato lì 35 anni cioè capite che bisogna assolutamente non avere nessun tipo di ansia da prestazione bisogna essere estremamente consapevoli dei propri mezzi anche perché a Bado porterà all'interno della filarmonica di Berlino due grosse e importanti innovazioni. Innanzitutto la svecchierà tantissimo e arrivando a rinnovare fino al 70% dell'orchestra con musicisti giovani e la seconda cosa che farà cambierà alcune tradizioni soprattutto nell'esecuzione di un certo repertorio e in particolare di Beethoven che vedremo un po' più in uno specifico più avanti nel video. Il suo rapporto con i giovani fu da sempre privilegiato non per niente fonderà l'orchestra Mahler e collaborerà per tanti anni con la Chamber Orchestra of Europe due compagini fatte da giovani musicisti la Mahler in particolare a cui a Bado non sottrarà mai né tempo né energia né entusiasmo. Vediamo quali erano le sue principali caratteristiche dal punto di vista direttoriale. Beh innanzitutto la memoria la memoria veramente io non credo di avergli mai visto dirigere niente con lo spartito davanti perché avevo letto un'intervista lui diceva se non dirego memoria sono convinto di non saperlo abbastanza bene quindi memoria, memoria, memoria ma anche un approccio molto intelligente che io ho sempre molto sposato alla partitura un approccio sì filologico ma non dogmatico cioè lui diceva è importantissimo andarsi a cercare i manoscritti di cosa aveva fatto Beethoven di cosa aveva fatto Mozart per cercare di capire veramente quali erano state le volontà e le indicazioni primigeni di questi grandi autori però capì anche che questa cosa non andava sopravvalutata e che molte volte più del manoscritto era importante vedere la prima o la seconda edizione sulla quale l'autore aveva fatto delle modifiche delle correzioni perché noi teniamo sempre a pensare che la partitura di un compositore anche di un grande genio sia una sorta di tavola della legge immutabile, intoccabile e assolutamente indicatrice di quella che era la volontà del compositore non è vero molte volte il compositore e chiunque compone musica lo sa benissimo anche il compositore più preparato anche il compositore più geniale quando poi va all'ascolto di quello che aveva scritto sulla carta ai tempi non mica come oggi c'erano i sequencer e si poteva ascoltare già da casa si scriveva sulla carta e finché poi non si andava alle prove non si aveva veramente la percezione di quello che si era scritto e quindi anche un grande compositore anche un genio poteva talvolta apportare le modifiche a quello che aveva scritto perché si rendeva conto che l'esecuzione era più efficace modificando determinate caratteristiche per esempio della strumentazione o dell'orchestrazione quindi si vengono scritti ma non percepiti come un dogma dell'assoluta e ultima volontà del compositore un'altra sua caratteristica abbastanza peculiare erano i tempi molto veloci e qui aveva anche qui una teoria molto razionale e assolutamente condivisibile molto diversa per esempio da quello che pensava Celi Bidacchi che aveva tutta una propria filosofia della fenomenologia musicale e dell'acustica per cui diceva i tempi vanno valutati in base al posto al momento alla sala e a tutta una serie di altre specifiche che appunto magari approfondiremo quando parleremo di Celi Bidacchi Abado no Abado aveva comunque un approccio molto razionale e molti tempi soprattutto le sinfonie di Beethoven lui li staccava a un tempo molto più veloci da quello che era la tradizione anche la famosa tradizione 35ennale di Karajan i metronomi soprattutto di Beethoven sono sempre molto contestati adesso senza entrare in tecnicismi ci sono dei grossi dubbi fra gli studiosi fra i musicologi se l'80 sparo che inteneva Beethoven alla semiminima di metronomo corrisponde veramente all'80 di oggi ma Abado in questo senso aveva tagliato la testa al toro e aveva detto va bene noi non sapremo forse mai se l'80 dei tempi di Beethoven corrisponde all'80 di oggi ma tagliamo la testa al toro chi se ne frega ma 80 era 80 cioè voleva dire quel tipo di pulsazione cioè Beethoven se scriveva 80 voleva quel tipo di pulsazione ciò significa che se due movimenti della stessa sinfonia o due movimenti anche di due sinfonie diverse riportano 80 indipendentemente dal fatto che sia un vero 80 devono essere uguali e da questo punto di vista può sembrare un uomo di Colombo ma per tanti anni non è stato così ciò li diceva perché Beethoven su questo tal movimento di questa sinfonia ha scritto 80 e la si esegue per tradizione a questo tempo perché quest'altro movimento di quest'altra sinfonia in cui è sempre indicato 80 la si fa allora a un tempo diverso magari spesso più lento la risposta era in città nella domanda perché farlo a quel tempo che era scritto sarebbe stato molto difficile però Abadio diceva se seguiamo questo movimento a 80 a questa velocità queste stesse identiche velocità dobbiamo riportare in quest'altro movimento o addirittura in quest'altra sinfonia che riporta sempre 80 di metronomo altra cosa che farà è la reintroduzione di tutti i ritornelli i ritornelli credo che lo sappiate sono quando un pezzo di musica specificamente sinfonico viene ripetuto uguale per cui si è a un certo punto e poi si ripete da capo e poi si va avanti molte volte questi ritornelli sono stati elisi nella tradizione nella tradizione dell'esecuzione perché certe cose potrebbero sembrare un po' ripetitivi insomma Abadio diceva no quel ritornello ha una funzione strutturale e di forma fondamentale e se dovessi eseguire quella sinfonia senza quel ritornello mi sembrerebbe un monca mi sembrerebbe di eseguirla senza una parte come fare lui disse in un'intervista come fare il ritratto di un uomo ma senza un braccio uno dei grandi ramarici musicali della mia vita è stato quello di non aver mai assistito a un concerto di Abadio dal vivo e ovviamente di non aver mai visto anche nessuna prova cosa che invece mi è successo diverse volte con Muti quando lui veniva a provare con la scala in conservatorio in sala verde in conservatorio io con la complicità di alcuni bidelli compiacenti mi intrufolavo come un ladro e stavo lì ad ascoltare per cercare di rubare qualche segreto di concertazione questa cosa purtroppo con Abadio non mi è stata possibile farla di Abadio ho non so quanti decine decine di cd del repertorio sinfonico del repertorio operistico ma una delle registrazioni a cui sono più legato è questa qua che è l'integrale delle sinfonie l'ultimo integrale della sinfonia di Beethoven che fece in dvd questi sono dvd come potete vedere una ventina di anni fa nel 2002 2003 avevo comprato i tempi anche perché i tempi costava una cifra importante ma avevo fatto questo piccolo investimento perché c'è una cosa particolare in questa in questa versione cioè c'è la possibilità non so di vedere il concerto come l'aveva pensato il regista della delle riprese ma di vederlo con una camera sempre su Abadio quindi di vedere tutto il concerto dalla stessa prospettiva da cui lo vedevano i musicisti voi capite che per uno che studia direzione d'orchestra beh insomma questo è un valore aggiunto inestimabile inferiore solo al poter assistere a una prova per cui io ai tempi avevo consumato questi questi dvd su questa camera fissa per cercare di rubargli qualche segreto qualche intuizione ovviamente inutile che ve lo dica più è illusione poterlo fare perché da ragazzo non capisci quello che poi capisci più avanti cioè che certe scelte sono frutto di una visione dall'alto di un'intera vita passata a pensare a concepire quel pezzo e quindi non basta prendere il singolo pezzettino e riportarlo quando poi quel pezzo lo dirigerei tu per fare in modo che quella diventi di per sé una buona idea in particolare mi sono riascoltato da questi dvd la settima che è forse a mio parere l'unica che può veramente giocarsela con la settima di Kleiber che resta secondo me la migliore settima di Beethoven mai incisa e devo confessarvi che ho pianto ho pianto di fronte a tanta bellezza e a tanta perfezione l'abbado è già anziano ma soprattutto è un abbado che ha già attraversato e sconfitto una prima volta un brutto male e infatti lo si vede insomma che comunque è dimagrito affaticato e nonostante questo dirige questa come tutte le altre sinfonie come qualunque cosa che dirigeva con una lucidità sempre tutta memoria ovviamente è una precisione impressionante non si perde neanche un attacco neanche un ingresso che non sono ovviamente degli attacchi tecnici cioè non è che desse l'attacco al fagotto perché il fagotto non sapeva dove entrare sono attacchi musicali sono attacchi in certi casi di contrapunto o in altri casi attacchi che servono a sottolineare una determinata frase e quindi è una bellissima esperienza non ve lo posso far vedere per questione di copyright poi questo video comunque non è una reaction ma se avete la possibilità cercatevelo non so se si trovi su youtube temo di no ma se trovate su qualche mercatino da qualche parte questo cofanetto ecco qua ve lo faccio vedere meglio non perdetevelo perché non ve ne pentirete per cui grazie a Bado grazie di tutto quello che ci hai regalato grazie della tua etica professionale grazie della tua umanità e grazie per essere stato un modello per intere generazioni di direttori bene se volete che parliamo di qualche altro direttore scrivetelo nei commenti se il video vi è piaciuto lasciate un like ma soprattutto non ve lo dirò mai è abbastanza iscrivetevi al canale a voi non cambia niente ma per me è molto importante iscriversi al canale è facilissimo lo sapete già basta cliccare qua su ci vediamo alla prossima